eccomi sono pronta guarda che stai in ritardo le belle donne sono sempre in ritardo assi e tu perché hai fatto tardi ragazzi ho perso mio marito un giorno è uscito di casa e non è più tornato lui ha un ragazzo alto metro e 90 occhi azzurri sembra un angelo io l'uomo così tanto stavamo insieme da 13 anni non ho più speranza non so più come fare per ritrovarlo certo c'è un ragazzo che torna la sera dopo il lavoro e mi dice che mio marito ma io lo so lo so che non può essere il mio amore il mio sascia mi amava e coccolava dai spegni quel telefono mi faceva tanti regali e le borsette nuove te la comprerò quella borsa quando al prossimo stipendio prometti promesso dai eccolo l'ho ritrovato eccolo il mio amore dai no ma che c'hai niente me ne vado via di casa perché cosa è successo scusa perché ho distrutto la tua macchina ma da ma da senta mi sa dire quanto manca fino alla prossima città grazie ehi ci vorranno circa una ventina di minuti non me lo potevi di prima voglio vedere che velocità stavi andando ah grazie ciao amore amore aspetta prima di uscire guarda qua amore dai che dobbiamo uscire mi devi risolvere questa sì allora guarda attentamente quante volte puoi sottrare il 3 dal 33 semplice vai aspetta che questa la so la so la so la so dai 11 no perché 11 perché se 33 meno 3 fa 30 e 3 per 10 fa 30 vuol dire che sono 11 no no dai concentrati non è matematica vero elementare ma che allora sono 2 perché 2 sono 2 vero perché puoi estrarre solo 2 volte il 3 da questo 33 perché ci sono 2 30 no ma che stai dicendo e che te so non ho parole amore te lo dico io sì anzi no lo scoprai nei commenti amore allora vai ti voglio ringraziare grazie mille che stai preparando questa cena per noi grazie grazie mille ah sì mi stai ringraziando per la cena esatto io lo sai per cosa ti voglio ringraziare eh grazie di esistere perché se non ci fossi stata tu io non avrei preparato questa cena lo capisci eh grazie mille che ci sei grazie a te di esistere grazie che ti stai prendendo cura di noi non so più come ringraziarti lo sai lo capisci no ah sì questo vuol dire lo sai per cosa ti voglio ringraziare io ancora eh eh lo sai grazie mille che mi sostieni sempre in tutto e per tutto per me è molto importante lo capisci è molto importante questo grazie 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 anche a te grazie di averti incontrato senza di te la mia vita sarebbe stata noiosa io non so come come avrei fatto grazie mille grazie ancora sai che c'è eh sai che c'è guardami ti amo io ti amo ti amo la follia sei tutto per me io ti amo io ti amo io ti amo di più 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 Grazie.